Non ho alcun tipo di aspettativa per questo nuovo Sonic, quindi sono totalmente libero da qualsiasi pregiudizio e da qualsiasi qualsivoglia forma di apprezzamento o disprezzo, quindi vediamo com'è. Non ho alcun tipo di aspettativa per questo nuovo Sonic, quindi vediamo com'è. Il mio contesto è italiano, radio, ma andiamo con difficile, consigli sì, vabbè niente lasciamo così allora e andiamo con nuova partita, difficile per chi conosce già i giochi di Sonic, bene. Il mio odio è concentrato in questo invincibile strumento di distruzione, ogni umiliazione subita per colpa del portosfino sarà vendicata dalla mia inarrestabile creazione. Il mio è un sogno che si avvera, questa invenzione mi farà estendere Eggmanlandia su tutta la terra e conquistare il mondo. Ah i robottini quelli me li ricordo, sì, Green Hill, Lost Valley, ok. Un accento un po' italianissimo. Ehi, aspetta, 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 fermati! Perché non salta con A? Con B. Ah, con B si salta. Oh, chi è che è il doppio Sonic? Renato Novara, grande! Ok, prendendo una capsula Whisper, riempirare il tuo indicatore che ti consente di eseguire un turbo, ok. Accidenti! Previ per saltare, grazie! Ah, ecco, non saltava. Esegui un attacco a ricarica, ricerca facendo un salto e premendo... Sì, 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 ok. No, oh, non me l'ha fatto! Valedetto! Ma questi sono... Oh mio Dio! Ma, porca miseria! Sonic corre, ok. Sonic è abbastanza veloce. Oh, no, 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 no! Ok, vabbè, in Sonic è difficilissimo perdere cadendo, eh. Molto difficile. Non è impossibile, ma succede. Mannaggia la morte! Vai, 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 vai così. Ah, ok, quindi è cambiata proprio per davvero. Non era solo l'odiceria quella che avevo letto. Vai, la grande! Ok, è andata, Green Hill. Mamma mia, che figata! Stupendo! Grado C... Ah, grado A? Ah, ok, meno no, perché dico grado C. Cavolo, l'ho fatto abbastanza velocemente. Ok, contano anche gli anelli, ma... Va bene. Ho letto che si alternano percorsi piattaforma e percorsi dove devi solo correre e basta. Percorsi piattaforma nel senso percorsi tipo quello che abbiamo appena visto. Green Hill in 2D, in 2D. Ok, ora facciamo la fila, Eggman. Tra il gioco, la tra il finito a Sonic. 2D. Ecco, la potenza del mio capolavoro, sopprano! Shen, sei tu! Samok! E la madonna... Ehi, beh, sei! Ehi! Ci manca uno solo! Quello nuovo! Da lasciare a fare? Sì. Cosa sei? E come fai a... Dave, dammi informazioni su questo... Ci bravo, Sonic, ma questi dati sono confusi. Non hanno senso! Io non esisterò a lungo, Dave! Cavolo! Ma più che... Più che dal gioco, da quello che sta succedendo... Sono impressionato da come la Switch stia reggendo bene il dinamismo. Porca miseria si regge bene il dinamismo questo gioco. Cioè, meglio, la Switch regge bene il dinamismo di questo gioco. Wow, 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 wow. Contro ogni logica previsione presa una forma di... Presa forma di resistenza con l'obiettivo di continuare a combattere. E ora un nuovo volto si prepara a unirsi alla lotta. Veramente mancava solo Knuckles. L'armata di Eggman è inarrestabile. Senza Sonic. Ah, loro! Ok, non mi ricordo tutti i nomi perché... Non ho giocato Sonic Heroes, dove... Principalmente appaiono anche loro. Non pensate che potrebbe... Io sono ottimista, ma sono... Silver, ok, Silver lo so. Amy, Tails, Knuckles... E... Loro non me li ricordo proprio. Mi ricordo Big, che sarebbe quella specie di gatto gigante. Un miracolo, ma ora dobbiamo crearlo noi, un miracolo. L'armata di Eggman ha terrorizzato tutti. Se vogliamo il loro supporto, dobbiamo dimostrargli che la forza non è data dai grandi neri. Non tutti sono terrorizzati. Non dovrebbe arrivare una nuova recita. Questa è l'ape di Sirius, invece. Chi dovrebbe essere loro? Cioè, è rimasto solo Knuckles da far apparire, tra virgolette. Oh mio... Ah, io? Ok! Tra maschi e femmina cambia se ha un vestito o no. Coniglio, orso, gatto, uccello. Estende le vulnerabilità quando subisci i danni. Spazza via i nemici e segue un attacco cablato. Gatto, uccello o porco, spino. Sarei tentato dal lupo e dal coniglio. Però penso che andrò con... Con lupo, dai! O meglio, io vorrei andare con porco spino. Però non mi piace molto i capelli dietro, sono fatti mali... Oddio, insomma. Non mi piace di là, così da avanti. Invece lupo... Guarda che canini, baby! Andiamo con lupo, dai! Ah, posso anche scegliere tipo. Stile porco spino? Sì, dai. Colore della... Ah, della bocca, addirittura. Andiamo con questo. Andiamo un po'. Gli occhi. Oh, oh! Oela! Sembrava... Uno spiritato. Andiamo con questi, era incazzato nero. Colore nero, nero. Il mio colore... Un Sonic fallato, facciamo. Un bianco menu... Ecco, questo qua. Questa, ok. Finito! Magnifico! Quindi giocheremo anche con il nostro personaggio? Wow! Sono davvero colpito. Non ci credo! Sì! Nakos è normale! È normale! È normale! È normale, Nakos! Meno male! Meno male! Scusate, non mi sono ancora abituato. Ah, meno male! Sono contento che Nakos sia normale. Scusate, tranne questo eroico amico, che è un superstite arrivato qui tutto intero. Vi presento la nostra nuova recluta. Non è molto grosso. Nemmeno tu, Charmy. Ma è utile avere con noi il tuo di dietro appuntito. Charmy. Ecco qui. Mi ricordo anche Cream. Ok, diamoci una mossa, forza. Dobbiamo andare a salvare il mondo. Sì! Meno male che Nakos è normale. Ha anche una voce abbastanza appropriata. Certo, se vi guardate Sonic Boom, là, il cartone animato, e avete visto il primo anime, anime di Sonic, la voce, sarete abituati ad altre voci. Ok, ehm... Sì. Quindi... Posso giocare con Shadow the Hedgehog? Abbiamo appena fatto Last Valley, quindi... Fase 2, Chemical Plant. Ebbè, ti pare che Hedgehog la uccideva? Non può ancora. Lo sapevo, lo sapevo! È rinchiuso nella prigione orbitale. La mia spia, lei, dice che si trova in una cella di isolamento e che continuano a torturarlo da mesi. Uuuh, quanto tempo è passato? È terribile! Dobbiamo salvarlo! Oddio, la voce di Emi è un po' troppo da fighetta. Ok. Space Port. Andiamo con Space Port. Port, proprio in inglese Space Port. Quindi gioco con il mio personaggio. Uolà! Che figata! Fai attenzione, spina! Dobbiamo trovare una labicella! Ma... Che figata! Nelle fosse qui contro il ladder, premi ZR per seguire un attacco speciale Wisp. Se non ce l'ho attivato... ZR! Ah! Ok! Devo mirare! Dai, vai, vai, vai! Andiamo, andiamo! Da gran paura! Certo, non è come storico, come controllare Sonic, però... Devo stare attento, però, quando controllo l'Avatar, perché... Ah, aspetta! Così però è semplice, non devo distruggerli tutti, se no non ha senso. Mentre ZR ti puoi passare a binari vicini, muovendo L o R. Ok! Oh! Sì! Grande! Dove sono? Premi X per causare un'esplosione che ti fa schizzare verso l'alto. Vai, ancora, ancora. Ok. Non credo che sia armato... Vai! Da paura, da paura! Oh! Calma, calma, dai! Ok! Oh! Da paura, da paura! Ah, anche Quick Time abbiamo? Entriamoci mentre esco e ritene a vada. Ci serve una navicella per raggiungere Sonic. Oh, ok. Prendete una navicella prima che diamo l'allarme. Oh, aspetta, 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 aspetta. Ah, mi sa che di fiolo un personaggio... Ah, ancora apposta, forse. Ah, X, è vero. Ah, non ce l'ho carico, niente, allora. Mannaggia, la morte! Ancora altro che vuole un po' di fuoco? Da paura. Grande. Ah, da solo ha fatto, dai! Non c'è gusto se lo fa da solo, lo farlo io. Ha fatto da solo, dico, quando mi compare bene l'aggancio, lo faccio, invece ha fatto da solo, ha fatto. Non mi è piaciuta sta cosa, no, no, no. No, 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 signore. Però, andata così. Facciamo un altro livello, poi magari ci fermiamo come primo episodio, va benissimo. Vai a dare un'occhiata? Ah, quindi posso cambiare il mio avatar quando voglio. Oh, l'abito di Persona 5, fantastico. Joker, mi sembra che sia. Ah, questo è quello di... Che se no è? Magic, mi sembra. No, Knight. Knight, Magic, Knight. Oddio, insomma, è un gioco particolare della Sega. Ma non mi ricordo di preciso... Ah, Monkey Ball. Sha... O è Sonic? No, questo è tipo Sonic. Tipo Shadow. Però Shadow è proprio questo. Ok, ok, ora ci siamo. A tutto sotto non si vede, giustamente. Ok, colore la pelle, ok. Aspetta. Qua c'è. Andiamo all'altro episodio. Ghost Town. Ghost Town. Ok. Avrebbe dovuto funzionare. Non sono riuscito a capire il problema. Ah, Chaos. Mi dispiace, non sono così bravo. Oh, Chaos! Sonic, aiutami! E invece... È lui! Sonic, oh mio Dio! Ma Degenerations! Sonic? Sei... Sei vivo! Aspetta, ma come? Ah, tu sei un Sonic che viene da un'altra dimensione. Quanto era carino! Tutto ha un senso, immagino. Sai come sei arrivato qui? Una volta non parlava. Con l'evoluzione hai iniziato a parlare. E che potrebbe essere un vantaggio? Insomma, tutto succede per una ragione, giusto? Dobbiamo salvare il mondo. E forse tu sei qui per questo. Per aiutarci a salvarlo. In ogni caso, è sempre bello vederti Sonic. Anzi, è bello vedere un Sonic. Giustamente, giustamente. Quindi vado con lui ora. Con Sonic classico. Mio Dio. Potrebbero esserci dei nemici in attenza. Attenzione. Ho la sensazione che Eggman abbia un asso nel... Questa è da paura, guarda, sta cosa. Sì, qui il vecchio Sonic ancora non sapeva fare gli attacchi... Attacchi, diciamo, in fila. Poteva solo saltare. Decolla come un razzo inclinando L verso il basso. E su. Ecco. Ora ci siamo. Questo livello dovremmo farlo anche con Sonic classico. Cioè, Sonic di questo universo, diciamo. Di un'altra dimensione nostra. Però è in 3D. Ed è molto dinamico. Ok, ho capito. Guarda se come hanno ridotto questo polvo. Dobbiamo fermare Eggman e qui. La guerra è al più presto. Boom. Oh, vai, mo' baby. Si va giù. Accidenti. Non ho premuto proprio io. Non ho premuto. Neanche stavolta. Oh, accidenti. Ferma, ferma, ferma. Mio Dio, che casino. Ah, se saltavo. Se saltavo facevo un buon ball. Oh, S. Wow. Probabilmente anche per gli anelli che ho preso. Premio per il completamento della missione. Uno zaino. Un bini e dei guanti. Tipo Knuckles. E delle scarpe. Ok. Quanta roba. Quanta roba. Mamma mia, c'ho una voglia di giocare assurda, però. Devo fermarmi qui. Qualche mese prima in città. Non c'è ragione di resistere. Il vostro salvatore non c'è. Ah, ma questo sono io. Posso sentire il tuo terrore puro. Tutta quell'ansia. E il dubbio. Un vero piacere. Forza, c'è via la volta. Scappa. Grida. E ti lascerò più bene. Ahahahah. Sì. E noi abbiamo acceduto dalla paura. Siamo scappati. Abbiamo gridato. Eccola Rouge. Rouge. Era ora. Come stai? Nonostante siano di fazioni opposte, sono tutti contro Eggman. Potrebbe essere meglio? Si stanno preparando a spedirlo nello spazio. Cosa? Starai scherzando? Eggman ha tenuto vivo Sonic fino ad ora perché voleva mostrargli il suo impero completo e ultimato prima di esigliarlo. Ma è stupido Eggman. Ha torturato tanto per passare il tempo. È proprio vide. Persino per Eggman. Eggman ha saputo del nostro piano per salvarlo. e sta accelerando il suo per impedirci di realizzarlo. Il tempo stringe capo. Per il momento le musiche non mi hanno ancora esaltato. Però per il gioco sono abbastanza esaltato. Non sappiamo nemmeno dove lo tengono prigioniero. Invece sì, Eggman ha ricostruito il Death Egg. È lì che tiene Sonic. What? Il Death Egg? Oh no, non ci voleva proprio. Death Egg? Non ci voleva niente di tutto questo. È perciò che si chiama guerra. Sapete tutti cosa fare. Andiamo a prendere Sonic. Sembro... Mamma mia. Un po' bruttino, ma... È stata sbloccata la schermata missione. Vedo un'occhiata. Si chiama Death Egg. Chissà perché mai. Missione. Vediamo un po' sta missione. Ah, ok. Ah, posso sbloccare... Completa una fase Sonic moderno. Allora, c'era una missione completa una fase Sonic moderno. Facciamo Lost Valley, quindi dovrei completarla con Sonic moderno e dovrebbe darmi... La missione completata? Ok, ok. Non abbiamo tempo da perdere. È meglio che ci diamo da fare. Wow, guardate! È enorme! Esce fuori di tutto quando il tuo quartiere si trasforma in un deserto. Il pulire sarà una bella imposta. C'è sabbia da quest'ultimo. Green Hill sembra sempre più una collina di sabbia. Questo posto è un'esame. Grazie. Uno dei miei luoghi preferiti è in Romina. Qui finisce Green Hill. La città deve essere vicina. Prepariamoci alla città. L'ho finita tempo record, praticamente. Missione giornale era superata. Ok, ecco, quindi... Dovevo proprio fare la... Così, proprio completarle. Proprio la fase. Così. Ok. Eh, le scarpe dell'uomo ragno. Era una battuta. Capitela, dai. Quindi... Vabbè, dai. Direi che per questo video è tutto, Cucci. Come sempre, vi ringrazio per averlo seguito nel prossimo. Dovremmo andare alla... Death Egg Prison Hall. Non so di preciso cosa possa riservarmi in questo prossimo episodio. Ma ci vediamo comunque sia domani con altri due video. Uno alle 3, uno alle 8. E come sempre vi ringrazio e... Bye bye! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!